L'agricoltura protagonista della ricostruzione del tessuto socio-economico nei territori colpiti dal sisma. Questa la sfida lanciata da Copagri nel convegno che si è tenuto a Tolentino dal titolo Terremoto, non ci fai paura. Oggi cerchiamo di fare un po' il punto sia sulla ricostruzione, visto le recenti disposizioni normative, quindi le varie ordinanze che sono state emanate, e di verificare quali sono le esigenze dei nostri associati, dei nostri agricoltori che, ricordiamo, sono stati colpiti in maniera ingente. E poi cercheremo anche di fare un po' rete con altre istituzioni, quindi cercheremo di confrontarci con università, camera di commercio, istituzioni, comuni, associazioni, proprio per cercare un rilancio del territorio. È una tragedia in mane, però noi dobbiamo essere bravi, pronti a gestirla e quindi a cercare di trasformare questa tragedia in un'opportunità. I numeri sono, devo dire, enormi. Se per il sisma del 24 di agosto avevamo situazioni di criticità in 46 aziende, per il sisma del 26 e del 30 di ottobre abbiamo rilevazioni di danneggiamenti su 540 aziende ad oggi. Sappiamo che, peraltro, ancora, le segnalazioni non sono completamente terminate di arrivare e quindi questo dato, purtroppo, è destinato anche ad aumentare un po'. L'evento ha riunito i massimi rappresentanti regionali dell'associazione, docenti universitari, istituzioni e soprattutto numerosi agricoltori che chiedono di non essere dimenticati. Un'esperienza purtroppo grave, difficoltosa, con gravi danni che ha reso inagibile l'abitazione, quindi non ho la casa né per me né per la mia famiglia né per la mia mamma, quindi abbiamo delle stalle lesionate e quindi per la mia azienda ci sono gravi difficoltà. Ma io, più che l'azienda, in questo momento penso alle persone, siamo ancora nella fase ancora di stare vicino alle persone.